La A Studios di Milano ci stiamo preparando per regalarvi un Halloween da paura. La A Studios di Milano ci stiamo preparando per regalarvi un Halloween. La A Studios di Milano ci stiamo preparando per regalarvi un Halloween da paura. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una spumeggiante Halloween in compagnia di noi della A e A Studios con Andrea Evans e... Beppe è il vostro videomaker. Sonia, truccatrice. Cosmina, modello. Damiano, fotografo. Buon divertimento a tutti! Grazie a tutti!